Oggi mattina dei soldati innalzano la bandiera greca sulla loro antica cittadella, l'acropoli di Atene. Questo ci riporta a 2500 anni fa, quando Atene partorì l'idea di una città governata da cittadini liberi. Atene è una delle città più belle del mondo. E in molti modi è proprio Atene che ci ha dato il nostro ideale di città, il nostro ideale di cittadino. Viviamo in un mondo moderno pieno di città grandi e oggi Atene è molto più grande di com'era nell'antichità. Eppure l'Atene dell'antichità è un successo straordinario. Non è un posto in cui gli abitanti si radunano intorno al palazzo del re, ma è un centro del libero governo. Ogni aspetto della vita quotidiana, dalla difesa allo smaltimento dei rifiuti, qui è amministrato dai cittadini. In definitiva, questo sistema definisce un modo di vivere. I cittadini atteniesi gli danno un nome, lo chiamano potere del popolo, demos kratos, democrazia. Questa è la storia di come i greci trasformano l'idea della città in un modello che continua a vivere ancora oggi. I coloni arrivarono qui e dissero, bene, costruiremo tutto intorno a questo. Verrà alla luce il reticolato di come creano un modo di vivere urbano. Adoro il fatto di sapere i nomi degli scalpellini, degli uomini che realizzarono le scanalature. Della prima costituzione, che stabilisce i diritti dei cittadini e costruisce una città che è l'invidia del mondo. Gli ateniesi combattevano per un ideale, l'ideale che portiamo avanti oggi. Sono andato anche a Roma, dove 500 anni dopo viene creata la prima megalopoli antica, potremmo dire, con tanto di condomini e di molti piani. Questo non è solo un pezzo di archeologia, è un pezzo di storia vivente, complessi sotterranei, qui siamo proprio sotto il foro, e incredibili infrastrutture. C'è un passaggio famoso in una guida scritta nel secondo secolo dopo Cristo da un greco chiamato Pausania. È una guida di tutta la Grecia. Lui attraversa un piccolo posto in Beozia chiamato Panopea e dice la città, la polis di Panopea, poi fa una pausa e dice se si può definire questo posto una polis. Quello che lo turba di Panopea è, cito testualmente, non ha edifici per i magistrati, non ha ginnasio, non ha teatri, non ha agora, non ha un approvvigionamento idrico che alimenti una fontana. Gli ateniesi comprendono che gli spazi pubblici, gli edifici, i teatri, perfino le librerie come questa, sono elementi che trasformano un luogo di abitazione di massa in una vera città. Tutto questo viene dato per scontato ad Atene, che definisce i parametri per tutte le città del Mediterraneo dell'antichità e per quelle di oggi. Queste alte aspettative sono il prodotto di un sistema di governo che Atene regala al mondo. Un governo del popolo, dal popolo, per il popolo. Ed ecco come succede. Molte persone pensano che la Magna Carta inglese del 1215 sia la prima costituzione, ma quella che vi mostrerò risale al VI secolo a.C., cioè a quasi 2000 anni prima. La Costituzione degli Ateniesi viene scritta dal grande pensatore Aristotele, ma a differenza della Magna Carta, finora non è mai stata filmata. Prego. È questo? Accidenti! È fantastico! Ho visto spesso delle foto del papiro, ma è la prima volta che lo vedo dal vivo. È un papiro vecchio di 2000 anni, ma non solo. È l'unica copia sopravvissuta della Costituzione della città di Atene scritta da Aristotele. venne scoperta nel 1890 e poi comprata dal British Museum. Il giovanissimo Frederick George Canyon, di appena 27 anni, cominciò a leggerla. C'è da dire che il greco è una lingua molto difficile da leggere. Questa è solo una parte del papiro, è la metà. Il papiro per intero arriva qui, è lungo due metri in tutto, e sono quattro rotoli di pergamena. Questa che vediamo qui è la parte iniziale, in cui parla del primo capitolo che riguarda la riforma di Solone. Qui, per esempio, parla proprio di Solone, Solon. Gli ateniesi considerano Solone il fondatore della loro democrazia. Lo nominano legislatore e lo invitano a stilare un nuovo codice legale per salvare Atene dagli aspri conflitti interni fra i ricchi e i poveri. Questo documento è importante per gli antichi ateniesi, almeno quanto la Magna Carta per gli inglesi. Eppure questa Costituzione è molto più avanzata. Non era solo un legislatore, era anche un poeta nel difendere le sue riforme. Ecco, qui lui dice, ho liberato la terra d'attica, la terra nera, la più grande degli dèi, la chiama, espressione straordinaria. La più grande degli dèi era ridotta in schiavitù. Lui liberato la terra dell'attica. L'attica, la regione di Atene. Questo è il più lungo testo su papiro che abbiamo della letteratura greca. E ha cambiato la nostra interpretazione della nascita della democrazia greca. La libertà democratica e il nuovo mondo della città greca vanno a braccetto. Per comprendere quanto radicale è questo cambiamento, dobbiamo vedere quello che accade prima. Nei secoli che portano all'Atene di Solone, nell'antica Grecia ci sono grandi insediamenti urbani, proprio come in Cina e nell'antico Egitto, ma nessuno di questi è una città come la intendiamo noi. Il più famoso si sviluppa in un mondo un tempo considerato appartenente al mito. Questa è Micena, a 120 chilometri da Atene, la terra di Agamennone, di Elena di Troia e della guerra di Troia. I greci del periodo classico vennero menzionati nei poemi omerici, nelle loro storie, direi, straordinariamente ricchi e potenti. Si è sempre supposto che i poemi epici omerici fossero mere leggende, fantasie di un'età eroica. Si pensava questo prima che l'archeologia dimostrasse che la civiltà micenea ha basi storiche. Questo, per il mondo di 3500 anni fa, è un grande centro urbano. Ci sono abbastanza case per alloggiare un numero significativo di persone. Ma questa è la roccaforte recintata di un singolo sovrano, piuttosto che una comunità di cittadini. Non si può dire che non sia evoluta. Le mura che sovrastano il paesaggio sono così grandi che i greci delle epoche successive penseranno che le abbiano innalzate i famosi mostri con un occhio solo, i ciclopi. In effetti, sono una vera prodezza ingegneristica. comprendono addirittura la più vecchia cupola del mondo antico. Eppure, alcuni degli elementi chiave associati a città come Atene, condivisione di servizi, spazi ed edifici pubblici, mancano. In definitiva, questo è un grande insediamento con strade e case ammassate intorno al grande palazzo, un egaron di un re. Nel 1000 a.C. inizia il declino di Micene e degli altri centri abitati. Lentamente si inizia a sviluppare un nuovo tipo di insediamento greco. Nel corso del IX e poi dell'VIII secolo a.C., i greci sperimentano comunità governate dai cittadini stessi. Questo modello viene conosciuto come polis. I coloni greci portano la polis ben oltre i confini della madrepatria, perché fondano le loro colonie cominciando da zero. Quindi possono osare di più con le proprie idee. È una spettacolare sperimentazione nella creazione di città. Oggi questo magnifico sito è conosciuto con il suo nome romano, Pestum. Ma prima di essere una città romana, era una città greca, fondata dai coloni greci intorno al 600 a.C., si chiamava Poseidonia, città di Poseidone. Può sembrare un po' strano cercare una città greca in Italia, ma il sud della penisola e la Sicilia, la cosiddetta Magna Grecia, sono pieni di nuove città fondate dai greci in quel periodo, tra il VII e il VI secolo a.C., in cui venivano sperimentate nuove idee su come potesse essere una città-stato, una polis. E in questo sito, meglio che in qualsiasi altro luogo, è possibile vedere gli elementi che costituivano una polis. Per scoprire che cosa c'è di così rivoluzionario nell'organizzazione di questa città, sono qui con la mia collega di Cambridge, Tiziana D'Angelo. Tiziana, sapresti darmi un'idea di quanto era formale la creazione di una nuova colonia greca, di una nuova città greca? Era un processo graduale, ma i coloni venivano qui con una chiara idea di ciò di cui avevano bisogno per costruire la città. avevano una serie di priorità e iniziavano dalla prima. La priorità assoluta era lo spazio pubblico. Chiamato dai greci Agora, questo è quel salto di immaginazione che più di ogni altra cosa differenzia i nuovi insediamenti greci da quelli micenei. Al centro della polis non c'è un palazzo per il re, ma uno spazio aperto per l'incontro dei cittadini. Stiamo entrando dal perimetro meridionale della Gorà. La Gorà era enorme e copriva un'area di 10 ettari. Però, quindi non è solo questa. 10 ettari è un'area gigantesca. Lo spazio pubblico era davvero importante nella città. Era la prima cosa di cui i greci si preoccupavano. Arrivavano, lasciavano libero questo grande spiazzo e dicevano, bene, costruiremo tutto intorno a questo. Sì, quindi questa era per il demos, per il popolo. E gli individui avevano la loro abitazione più lontano? Sì, a ovest e a est della Gorà. Questo spazio non veniva toccato. In totale, qui lo spazio pubblico, santuari inclusi, è l'equivalente di quasi otto campi di calcio, cioè un quarto della superficie della città. La Gorà della Polis mette gli abitanti al centro di un nuovo tipo di insediamento urbano, governato dagli stessi cittadini. La città, come la conosciamo. È qui che i cittadini, i politai, si incontrano per scambiarsi merci e idee, per comprare e vendere e per parlare gli uni con gli altri. Agorà ha la stessa radice del greco agoreuo, che significa parlare. L'idea di uno spazio pubblico in cui poter parlare può sembrare insignificante, ma conversando nascono discussioni politiche e dalle discussioni nasce la politica. La Gorà e l'approccio alla politica a essa associato diventano famosi nella madrepatria ellenica quanto nelle colonie come Poseidonia, Pestum. Nel 900 a.C. non c'è neanche una singola polis in Grecia. Nel 600 a.C. ce ne sono centinaia. All'epoca in cui viene fondata Pestum, Atene è solo un'altra polis della Grecia centrale, ma si sta sviluppando in fretta. Soprattutto è la sua Agorà che comincia a evolversi, non nelle dimensioni quanto nel ruolo. Appena dopo il 300 a.C. la politica nell'Agorà viene rivoluzionata. Il vero motore del cambiamento è la riforma amministrativa di Solone, descritta da Aristotele. Solone fece questa sua grande rivoluzione, il suo Seisakteia, il suo scotimento dei pesi. E qui abbiamo Solone che parla di come lui dia la libertà alle persone dell'Attica. Solone le libera da una schiavitù infame, Dullien, a Ikea e le rende cittadini liberi. Queste leggi dicono che nessun uomo nato in Attica può essere fatto schiavo. Non c'è più la schiavitù per debito. La Costituzione conferisce ai cittadini diritti politici. E senza di questi non può esistere la democrazia. Solone già nel 594 a.C. legiferò lo strumento per creare libertà e democrazia. Diede al popolo un'ecclesia, un'assemblea in cui i cittadini avevano il voto e la libertà di parlare. Quella libertà di parlare è fondamentale per la democrazia. Le riforme di Solone non sono perfette. Escludono dalla cittadinanza le donne e gli schiavi stranieri. ma lanciano l'idea del potere del popolo che raggiunge l'apice nell'Atene del V secolo quando i cittadini maschi votano per quasi tutte le questioni. Il voto avviene vicino all'acropoli, nel cuore della democrazia ateniese, sulla collina Pnicei. Uno di coloro che conoscono meglio questo posto è il mio vecchio amico John Papadopoulos che studia qui da 30 anni. Abbiamo una magnifica vista dell'acropoli da questo punto, vero? Suppongo che là sotto ci sia la Gorà, che era il centro della politica democratica. Eppure c'è un posto ancora più importante per la democrazia, giusto? Questo è il punto emblematico. È qui che l'assemblea dei cittadini maschi, che costituiva la democrazia ateniese, si riuniva. È in questo posto che prendeva tutte le sue decisioni. Ed è proprio qui che abbiamo la piattaforma degli oratori, che è molto importante. Qui stavano in piedi gli oratori e questi, per poter far sentire la loro voce, erano costretti a gridare, perché parlavano a un pubblico di minimo 6.000 cittadini. 6.000 persone è una cifra enorme. Riempivano tutto lo spazio, vero? E le persone venivano mandate giù alla Gorà con le corde, venivano legate con le funi, che erano dipinte con vernice rossa, per cui si poteva vedere chi indugiava. Si mandavano lì finché ce l'ha posto. E per definizione c'erano un sacco di persone povere. Non si poteva ignorare il volere delle persone più povere della società. E questa è ovviamente una delle principali ragioni per cui la democrazia si espanse. E con il tempo non si espande solo ad Atene, ma in tutto il mondo. Pensa che i numeri di Barnard e Camden siano adeguati? Abbiamo più poliziotti. Si attenga la domanda, sì o no? Sì, risponda la domanda, sì o no? Faccia una domanda sensata, stupido. Sì, ci risiamo, ci risiamo. Sì, ordine, la risposta. La democrazia gode di ottima salute nelle città moderne e un posto che è fiero di averne raccolto l'eredità è Londra. È un costo fiscale. Mi ha detto no che sarebbe stato gratis. In sei anni. Io ho bisogno che voi saliate sul tram e che restiate lì. È un sistema in cui i politici devono rispettare le opinioni di ognuno. Il più grande paradino dell'antica Atene in questa capitale, Boris Johnson, non fa eccezione. Ma gli antichi ateniesi considererebbero questa una versione sbiadita della democrazia. Essi infatti delegano ben poco ai politici. E fanno molto più che limitarsi a mandarli al potere. Forse non mi sono spiegato bene. Quello che intendiamo dire è che... Immagini di essere sulla Pnice. Lei è un oratore, è salito sul behemma, sul piedistallo e ovviamente non ha un microfono. Sarebbe stato difficile, no? Sì, lo sarebbe stato. Come sarebbe stato? Come sarebbe stato? Sarebbe stato molto difficile. Ovviamente gli ateniesi avevano il piacere esprimibile, quando si stufavano dei politici, di poterli ostracizzare. Si può immaginare l'impatto su di te se sei una persona umile di Atene? Non farai mai parte di quelle persone. Però se vuoi, puoi spedirle in Bulgaria o chissà dove. Per un sacco di tempo. Era una cosa efficace. Penso che dovremmo reintrodurla. Non farò commenti su questa proposta. Ma per gli antichi ateniesi è una cosa seria. Non hanno solo il diritto di espellere chi minaccia la loro democrazia. Allora, cosa succede qui? Abbiamo una stele, un lungo pezzo di marmo con in fondo una lunga iscrizione. In alto invece c'è l'immagine di una donna che incorona un uomo seduto. Beh, è una celebrazione della democrazia. Quello che vediamo è una donna che è la personificazione della democrazia che incorona un uomo seduto, che è la rappresentazione del demos del popolo. Perciò abbiamo la storia raccontata sia con le immagini che con le parole. La lunga iscrizione dice che se c'è qualcuno che tenta di rovesciare la democrazia, chiunque voglia può ucciderlo. Può assassinarlo impunemente e non verrà processato. Atene proteggeva con orgoglio il suo status democratico. Perfino oggi possiamo ancora trovare in città indizi di come il lungimirante governo creato dagli antichi ateniesi prese il comando sui rivali. Calimera! Buongiorno, salve. Buongiorno. Buongiorno. Ha delle monete antiche? Sì. Al Caicano Miss? Sì, le abbiamo, certo. Oh, formidabile, splendido. E quanto vengono? Due euro. Due euro? Sì, grazie. Mi ha reso un uomo felice. Devo dirlo, sono davvero contento di avere la mia personale civetta ateniese. Due euro non sono niente per questa meraviglia. Ovviamente si tratta solo di una riproduzione moderna, ma simbolicamente questa è la ricchezza di Atena. Realizzavano queste monete, sulle quali stampavano sempre la civetta di Atena, la dea della saggezza, con l'argento delle miniere del Monte Laurio. Ed è grazie a un anno particolarmente fortunato, il 493 a.C., che lo Stato chiude in attivo di 100 talenti. Che cosa ci fa? La prima idea era dividerli tra i cittadini di Atene. Sarebbero venute dieci drachme a testa. E il grande politico Temistocle disse, no, 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 investiamoli, investiamoli. Con quei 100 talenti possiamo costruire un centinaio di navi. Nell'Atene democratica, Temistocle è uno statista dell'importanza di Churchill. Si rende conto che deve persuadere i suoi cittadini del bisogno di accrescere la flotta per difendere sia la democrazia ateniese che i suoi interessi strategici. Come Churchill, Temistocle è un grande oratore. Non è un'impresa da poco far votare gli Atenesi in modo che rinuncino alla sovvenzione e investano invece nella potenza navale. Il controllo del mare e il conseguente controllo del commercio stimoleranno la crescita della città più popolosa del Mediterraneo. Questa è la riproduzione di una trireme, una nave da guerra ateniese. Il suo disegno è basato su incisioni su pietra originali. È lunga a 35 metri, con tre ordini di remi. Questo è il culmine della tecnologia navale dell'epoca. Con 170 rematori, una nave del genere deve vincere il nemico con abili manovre. Richiede un alto livello di addestramento e abilità per ottenere il sincronismo di tutti i vogatori. Questi possono effettuare un giro intero della nave in meno di 70 metri, appena due volte la lunghezza dell'imbarcazione. L'arma letale è il rostro, come ci spiega l'attuale comandante onorario dell'imbarcazione, il capitano Panos della moderna marina militare greca. Durante le battaglie usavano tutti i rematuri per ottenere la forza necessaria quando il rostro colpiva le altre navi. Quindi il rostro è una parte importantissima della nave. Questa è la vera arma della nave, giusto? Giusto. Bisognava ottenere la massima velocità per far entrare il rostro di rame nella fiancata dell'altra nave. Esatto. E i rematori erano uomini liberi, una cosa che molte persone non sanno. perché nella storia le navi a remi spesso erano spinte da rematori schiavi, di solito incatenati ai remi. Era una cosa terribile, brutale e doveva essere davvero spiacevole remare in una nave del genere. Era spiacevole, ma il fatto che quegli uomini fossero cittadini liberi e non schiavi spiega perché dessero il meglio. La flotta ateniese diventa inscindibilmente connessa alla futura crescita di Atene e alla libertà dei suoi cittadini. L'investimento dei profitti delle miniere d'argento dell'Aurio nella costruzione di una nuova flotta ebbe enormi ripercussioni sullo sviluppo di Atene. Da una parte rese Atene una grande potenza navale e le procurò vittorie. Dall'altra ebbe grandi implicazioni politiche. Le persone che spingevano i remi erano cittadini ateniesi, ma soprattutto erano persone povere di Atene. E questo significava che la loro voce contava davvero in politica. Votavano per automandarsi in battaglia. Nel 480 a.C. la Persia invade la Grecia. L'abilità dei cittadini di sollevarsi contro un grande impero viene messa alla prova. Il condottiero ateniese decide di correre un rischio enorme. Un oracolo ha detto di credere nel loro muro di legno. Temistocle interpreta quel muro come la flotta ateniese. Invece di difendere la città con i soldati la abbandona e allontana le sue truppe dalle navi ormeggiate a largo di Salamina. Secondo lo storico greco Erodoto i persiani superavano i greci di oltre 4 a 1. scesa la notte però il mago della tattica a Temistocle invia dei messaggi ai persiani lasciando credere loro che è pronto a cambiare bandiera. Per mantenere la propria posizione per tutta la notte mentre le negoziazioni procedono i persiani sono costretti a vogare di continuo. all'alba Temistocle attacca i suoi nemici ormai esausti per il remare e li annienta. Anche se Atene stessa è stata rasa al suolo e la vecchia acropoli è distrutta il popolo ateniese con il suo rivoluzionario sistema di governo ha trionfato in guerra. Ora è nella condizione di ottenere la pace e trasformare la sua casa da semplice polis greca nella città più splendente del mondo antico. Per comprendere l'importanza di Salamina bisogna guardare il paesaggio dalla cima della collina delle Muse. Quindi ora stiamo guardando il cuore della potenza navale atenese. Sbaglio? Questo è il punto più favoloso per la storia e per la topografia di Atene. Proprio di fronte a noi vediamo il porto a forma di luna crescente il Falero. Era quello il porto durante la battaglia di Salamina. Ma dal momento che il Falero era troppo aperto e troppo esposto nel 493 a.C. sotto il comando ispirato di Temistocle gli atenesi decisero di spostare il porto principale dal Falero ai tre porti naturali del Pireo in modo che fosse molto più protetto. Vedi quel moderno grattacielo nel mezzo? Un porto è alla sua sinistra l'altro è più o meno dove è il grattacielo e il porto principale Cantaros è a destra. Il muro di legno di Atene la sua leggendaria flotta ora è rinforzato da questa lunga muraglia una formidabile fortificazione di pietra alta 20 metri e lunga 6 chilometri. Le mura cingono efficacemente il percorso da Atene al Falero e al Pireo proteggendo il collegamento al mare e la futura grandezza dell'Atene democratica come potenza navale. Trasformano Atene in una città di dimensioni senza precedenti integrata con un sistema di porti che la rende il fulcro del commercio nell'Egeo. Il moderno Pireo è un enorme porto turistico ma si trova esattamente nella posizione di quello antico ed è questo porto gigantesco il segreto del successo commerciale dell'antica Atene. Con la sudata libertà politica arriva quella economica. Grazie alla sua potenza navale Atene è libera di commerciare con chiunque voglia accaparrandosi un'enorme ricchezza e merci da tutto il Mediterraneo e oltre. Parte delle antiche fortificazioni marine di Atene è sopravvissuta. E cosa ancora più notevole la squadra archeologica dell'eforato delle antichità sommerse dell'istituto danese ad Atene ha scoperto un elemento chiave della supremazia marittima della città nel V secolo a.C. l'eforato che è una ricostruzione che è una ricostruzione artistica del porto di Zea e rappresenta esattamente il punto in cui ci troviamo in questo momento si tratta di una delle due torri della fortificazione che bloccava all'entrata al porto da qui attraversava la bocca del porto una torre si trovava qui e l'altra sull'altro lato e utilizzando la catena bloccavano l'ingresso perché non volevano che qualcuno avesse accesso alle loro triremi questo complesso portuale sarà stato di almeno 10.000 metri quadrati quindi c'era spazio per 196 rimesse navali Temistocle non crea solamente una grande flotta ma persuade anche i cittadini ad avviare un progetto di infrastruttura pubblica che non ha uguali nel mondo antico quando Temistocle sviluppò quest'area e creò il nuovo sistema di porti vi fece costruire intorno un grande muro e lo collegò all'acropoli si vedono le tracce delle lunghe mura dove ora ci sono le strade moderne ma Temistocle creò anche un quartiere residenziale e per farlo chiamò un famoso architetto un certo Ippodamo di Mileto che disegnasse per lui il nuovo quartiere residenziale Ippodamo è famoso per le sue idee radicali su come si dovrebbe vivere nelle sue nuove città a volte considerato il padre della moderna urbanistica non ama la confusione dei vecchi centri urbani dell'antichità e tenta di imporre un nuovo ordine nell'urbanistica della Grecia la sua è una visione utopica e democratica nella terra di oggi è difficile capire che aspetto aveva la città di Ippodamo tuttavia c'è un posto in cui possiamo farcene bene un'idea nella Grecia settentrionale a 180 km dal confine bulgaro ci sono i resti dell'antica città di Olinto è il miglior esempio esistente dell'assetto di una città greca del periodo classico nella parte sud del sito c'è un complesso urbano del VI secolo a.C. con agglomerati di case sparsi qua e là poi possiamo vedere l'enorme rivoluzione urbanistica degli anni 30 del V secolo a.C. il nuovo centro urbano è progettato con precisione matematica lunghe strade diritte formano quartieri di uguale estensione in ognuno ci sono 10 case tutte delle stesse dimensioni i confini netti del reticolato aiutano a evitare dispute tra i vicini perché questa è una società in cui la legge regna sovrana e le case di uguali dimensioni simboleggiano l'eguaglianza tra i cittadini lo sviluppo del Pireo da parte di Temistocle dopo la battaglia di Salamina non crea solo un meccanismo di espansione economica ma dà anche vigore alla giovane democrazia il reticolato del Pireo attraversa la città vecchia e Atene entra in una nuova fase il periodo aureo della città la chiave del successo è un'alleanza tra polis ognuna unica e diversa dalle altre con Atene al comando la vittoria di Atene sui persiani portò a una crescita esplosiva i persiani erano stati sconfitti ma rimanevano comunque una grande minaccia e ciò che fece Atene fu creare un'alleanza fra tutte le città minacciate dai persiani circa 200 polis si unirono in una grande alleanza navale gli Atenesi erano alla guida ma avevano costituito l'alleanza in modo che per loro risultasse molto vantaggiosa dicevano ai loro alleati o ci fornite navi da aggiungere alla nostra flotta o ci date del denaro così progressivamente con il denaro che entrava dai tributi la flotta Atenese divenne più grande più forte e fu sempre più difficile per gli altri alleati non pagare il tributo ad Atene nel 460 avanti Cristo i persiani erano stati allontanati dall'Egeo non c'era più una singola città greca minacciata da loro e a quel punto divenne leggermente meno importante per gli Atenesi a crescere la loro flotta così trovarono altri modi di spendere il denaro la città di Atene prospera grazie alla sua vittoria navale e alla potenza della sua flotta quasi immediatamente comincia a costruire e l'acropoli viene realizzata usando i profitti provenienti da questa grande alleanza navale la città ora è libera di concretizzare il suo ideale urbano e negli anni 40 del V secolo avanti Cristo sotto il nuovo e dinamico comandante Pericle inizia il sontuoso programma di costruzione pur essendo nato in una famiglia nobile Pericle è un populista che porta la democrazia ateniese in una direzione ancora più più radicale sotto la sua guida il povero ha il permesso di sedere nelle giurie e per farlo viene pagato generosamente ha addirittura dei sussidi che gli permettono di andare a teatro i monumenti dell'acropoli sono progettati per far sentire i comuni ateniesi orgogliosi dei successi della loro democrazia anche se l'edificio più famoso è il partenone guardando più attentamente possiamo trovare gli indizi lasciati dagli antichi ateniesi su quello che per loro aveva reso grande la loro città è interessante vero? arrivano di continuo ondate di turisti e hanno occhi sempre e solo per il partenone sanno tutti che nell'acropoli è questo il monumento da vedere e nessuno pone attenzione a quello laggiù i propri lei sembrano semplicemente l'ingresso all'acropoli ma John ha una nuova sorprendente teoria e se ha ragione i turisti si perdono qualcosa di colossale la cosa davvero notevole che è rimasta un enigma per molto tempo è perché nel 437 avanti Cristo l'architetto Mnesicle abbia cambiato l'orientamento di quasi 40 gradi puntavano laggiù? laggiù puntavano in direzione delle colline delle Muse e verso il falero mentre adesso sono girati nessuno riusciva a capire quale fosse il motivo ma è straordinariamente semplice ed esemplifica quella che era la natura degli ateniesi adesso quando esci dall'acropoli quando esci attraverso i propri dei Salamina è proprio di fronte a te Mnesicle immortalò per l'eternità il fattore decisivo che definì Atene ovunque nell'acropoli ci sono i segni della storia umana che c'è dietro i monumenti rivelano lo spirito di apertura che rende Atene il centro del mondo mediterraneo i grandi architetti coinvolti nella realizzazione di questi templi meravigliosi come Fidia e Mnesicle erano probabilmente cittadini ateniesi ma che dire degli operai che realizzarono tutto il lavoro dei dettagli in effetti è molto interessante perché abbiamo delle iscrizioni che ci danno un resoconto una lista di tutti gli operai e di quello che fecero esattamente questo straordinario documento storico ora esposto al museo dell'acropoli elenca i nomi di tutti gli operai dell'eretteo specificando il loro compito le loro origini e in molti casi perfino il loro status sociale adoro il fatto che si sanno i nomi di ogni singolo carpentiere che lavoro qui e degli scalpellini degli uomini che realizzarono le scanalature non di chi fece le colonne ma nello specifico di chi incise i piccoli solchi verticali un uomo di nome Sinias con un gruppo di quattro schiavi lavorò esplicitamente alla quarta colonna cioè una, due, tre, quattro quella è l'opera di Sinias splendide scanalature guardiamo l'eretteo uno dei più grandi edifici dell'antica Atene degli 86 costruttori e scultori che sono stati identificati 40 erano meteci cioè residenti stranieri 26 erano schiavi e il resto erano uomini liberi in altre parole la stragrande maggioranza era composta da schiavi o dalla più folta categoria di tutte quella degli stranieri venne costruito dai polacchi dagli immigrati dall'equivalente degli operai albanesi di oggi per dire l'eretteo documenta la volontà di accogliere energia e talento se possono procurare vantaggio a tutta la città è un'apertura che va a braccetto con la democrazia con il crescere della prosperità del Pireo grazie ai commercianti meteci il sistema di strade viene trasformato per andare incontro al crescente numero di beni per la popolazione in espansione non è un caso che la moderna ferrovia che collega la vecchia agora al Pireo segua la strada che in epoca antica collegava Atene al porto la tecnologia è cambiata ma l'impronta dell'infrastruttura lasciata dagli Atenesi del V secolo avanti Cristo rimane la stessa con i nuovi collegamenti dei trasporti nel Lago Rà gli Atenesi possono comprare da una schiera di venditori internazionali una città aperta implica commercio globale si vantava Pericle nel V secolo avanti Cristo data l'importanza della nostra città qui affluiscono merci da tutto il mondo ed è nostra buona sorte godere con lo stesso intimo piacere sia dei prodotti di casa nostra che di quelli di altri popoli dalle descrizioni dell'epoca sappiamo quanto ricca fosse la Gorà e anche che ampia scelta di beni vi si potesse trovare qui ho un bellissimo passaggio che leggerò per voi è di di un poeta coico dice si può comprare praticamente di tutto ad Atene arrivano merci da tutto il mondo Siracusa ci dona il formaggio e maiali ben nutriti le vele provengono dall'Egitto così come la carta l'incenso viene dalla Siria in Paflagonia crescono le mandorle l'elefante spedisce le sue zanne dalle sabbie dell'Africa Venezia ci manda i datteri attraverso i flotti e Cartagine manda ricchi tappeti e cuscini bene imbottiti con tutto questo commercio intorno alla città il governo atenese impone un rigoroso sistema di pesi e misure per assicurarsi che nessuno venga truffato nel comprare i prodotti in una democrazia la legge conta e i pubblici ufficiali devono assicurare che tutti gli aspetti della vita quotidiana procedano liberamente equamente e onestamente quindi John questa fogna è un elemento originale originalissimo in realtà è una delle parti più importanti del Lago Rà questa è la grande fogna affinché un luogo aperto potesse diventare una Gorà era necessario gestire l'acqua delle fontane portavano ad Atene l'acqua potabile e la grande fogna convogliava quella in eccesso evitando inondazioni e portando via gli scuri gli atenesi tenevano molto a mantenere pulita la propria città e non semplicemente con le fogne ma anche con un collegio di ufficiali preposti giusto? oh sì e si chiamavano astiunomoi erano le persone responsabili di mantenere la città pulita infatti la prima parte della parola astè significa cittadina mentre nomoi vuol dire regole leggi eccetera quindi queste persone permettevano il funzionamento delle fogne tenevano pulita la città e controllavano il lavoro dei coproforoi coproforoi significa letteralmente portatori di feci esatto ed esistevano regole e regolamenti molto chiari su dove e quanto lontano dalle mura cittadine si potevano portare i rifiuti organici umani faceva tutto parte dell'amministrazione di questa grande città è meraviglioso la città dell'igiene la città dell'igiene il governo democratico di Atene non crea solo istituzioni che possano far funzionare una grande città stabilisce il punto di riferimento di come dovrebbe essere una polis greca e lo standard viene stabilito dall'esigenza pubblica dal potere del popolo dalla democrazia e non vale solo per l'antica Atene ma per le città del futuro lo riepiloga uno dei più grandi condottieri ateniesi Pericle le sue parole ispirano i leader ancora oggi uno spirito di libertà governa la nostra condotta non solo negli affari pubblici ma anche nella gestione delle piccole tensioni della vita quotidiana in cui non mostriamo animosità verso le scelte del nostro vicino ne lanciamo calugne che possano nuocere è su questo che si fonda Londra sull'idea di lasciare che le persone portino avanti la propria vita senza pregiudizi di razza genere o abitudini sessuali chiunque tu sia sei benvenuto sei tollerato è in questo che gli ateniesi credevano ed è l'ideale che portiamo avanti oggi ed è questa tolleranza che probabilmente porta al più grande lascito di Atene per Atene la libertà politica e la libertà di commercio procedono mano nella mano ma Pericle comprende che per decollare davvero una città ha bisogno di idee di libertà di pensiero questa è la moderna accademia di Atene ma richiama le grandi scuole filosofiche del passato come per esempio quella di Platone lo spirito di libertà rende Atene una calamita per i più grandi pensatori del mondo conosciuto all'epoca seguendo la guida di Socrate e Platone in effetti è il principale pupillo di Platone Aristotele che registra la costituzione di Atene la Atenaion Politeia il documento che ci dà una visione unica del funzionamento dell'antica città sono le leggi di Solone che tracciano il collegamento fra libertà e città e stabiliscono i diritti dei cittadini per la prima volta l'unicità di Atene diventa presto evidente perché il successo porta con sé la rivalità sventata la minaccia dei persiani inizia una serie di guerre contro un'altra città-stato greca Sparta questi magnifici pezzi sono copie di sculture provenienti dall'acropoli di Atene la città era piena di sculture immagini opere d'arte monumenti questa era l'antica Atene lì abbiamo i tirannicidi Armodio e Aristogitone gli originali si trovavano nella Gorà queste persone e simbolo della democrazia eliminavano i tiranni Sparta al contrario era una città quasi priva di opere figurative una delle rare eccezioni è questo tizio che si suppone sia il re spartano Leonida colui che condusse alla morte i 300 spartani presso lo stretto passaggio delle Termopili Sparta era in tanti modi l'esatto opposto di Atene era l'opposto di tutti gli ideali che Solone portava avanti quell'idea che se sei nato in quel territorio devi restare libero a Sparta invece c'era un'intera popolazione di schiavi chiamati Iloti che generazione dopo generazione erano costretti a lavorare per l'elite dei proprietari terrieri gli spartiati come Leonida non avevano leggi non avevano conio non erano esperti nel commercio e non amavano molto gli immigrati infatti una volta all'anno li cacciavano via tutti questa politica si chiamava Xenelasia esclusione dello straniero di conseguenza Sparta non aveva niente di speciale come città perlomeno in confronto ad Atene Sparta sembrava semplicemente un insieme di villaggi c'è solo una cosa che questi spartani facevano meglio di chiunque altro ed era la guerra gli spartiati venivano addestrati nell'arte della guerra sin dall'infanzia sapevano meglio di chiunque altro in Grecia come difendere la propria terra e come devastare quella degli altri popoli e quando lo facevano nessuno poteva fermarli se arrivano gli spartani Atene può sopravvivere senza i terreni agricoli dell'attica poiché importa già gran parte del suo cibo attraverso il Pireo Pericle sa che in tempi di crisi gli Atenesi possono ritirarsi dietro le lunghe mura della città allargate ma questa strategia apparentemente bene scogitata ha un difetto fondamentale il ceramico è la più grande necropoli dell'antica Atene e fu quando scavarono una nuova linea metropolitana proprio lì dietro che fecero una scoperta straordinaria fra le sepolture individuali c'era un'enorme fosse piena di scheletri accatastati buttati dentro senza nessuna cerimonia erano erano oltre un centinaio dovevano essere le vittime di una grande epidemia l'epidemia è la grande falla nella strategia di Pericle Pericle pensava di poter sopravvivere all'invasione spartana radunando l'intera popolazione dentro le lunghe mura in effetti era una strategia efficace ma aveva un grosso lato negativo cioè che ammassando le persone in uno spazio piccolo si diffusero le malattie ad Atene esplose una terribile epidemia e lo sappiamo nel dettaglio perché lo storico Tucidide è una delle vittime e ci racconta con precisione medica com'era l'epidemia il dottor Manolis Papagrigorakis ha analizzato nuove prove di come sono morte le vittime Manolis Papagrigorakis è qui con uno degli scheletri che sta studiando questa è la testa di una ragazza giovane aveva 11 anni e certo che sia una vittima dell'epidemia sì come lo sa? beh abbiamo condotto le analisi del DNA della polpa dentale ritrovata negli scheletri rinvenuti dentro la fossa le analisi le analisi di tre denti differenti presi da tre scheletri differenti hanno mostrato che la causa era il batterio salmonella enterica tifi con i sintomi della febbre tifoidea e quali sono i sintomi della febbre tifoidea? com'è che si muore? il sintomo principale del tifo è la febbre molto alta per questa ragione i malati andavano alle fontane di Atene per rinfrescarsi per cercare di far scendere la febbre è così che la contaminazione si è diffusa fra tutti gli ateniesi tragicamente la più grande causa dell'epidemia è il condottiero atenese Pericle vittima della sua stessa strategia la fiducia nelle fortificazioni navali e nel sistema di approvvigionamento idrico l'orgoglio di Atene sferra un terribile colpo alla città ma l'idea per cui Pericle e la sua città si sono battuti sopravvive l'ideale di libertà è qualcosa che dobbiamo sostenere nelle nostre città abbiamo libertà di parola di associazione ma queste cose sono contestate non sono accettate ovunque nel mondo non sono valori banali e sono incarnati qui a Londra proprio come lo erano nell'antica Atene dobbiamo lottare per essi i valori democratici che distinguevano l'antica città alla fine crollano ma il fattore che provoca la caduta finale di Atene non è né l'epidemia né Sparta quasi 500 chilometri a nord di Atene c'è un'altra città-stato greca questa è Pella patria di Filippo II di Macedonia e di suo figlio Alessandro Magno Pella era la nuova capitale del regno macedone che sconfisse Atene la sconfitta da parte di Sparta colpì duramente Atene ma non la abbatté il suo impero si riprese in poco tempo fu la sconfitta da parte di Filippo II nella battaglia di Cheronea che azzerò le possibilità di Atene di essere una potenza imperiale l'impero macedone permette di costruire città su una scala che fa sembrare piccola Atene invece di strade strette con case egualitarie i macedoni realizzano grandi viali e ville opulente decorate con mosaici stravaganti ma in termini di gestione della città seguono l'esempio atenese spazi pubblici approvvigionamento idrico pubblico edifici pubblici dall'altra parte del Mediterraneo un'altra città-stato sta a guardare con ammirazione mentre gli Atenesi hanno stabilito un nuovo standard per la vita urbana servirà un impero molto più grande per creare la prima megalopoli del mondo antico e l'impero verrà lanciato da una polis non in Grecia ma in Italia il suo nome in greco significa forza Rome Roma e l'impero